Per quanto riguarda il precariato, già da viceministro mi sono dedicato molto alla piaga, quella che considero la piaga del precariato nell'ambito degli enti pubblici di ricerca e dell'università. Io ho voluto applicare lo stesso ragionamento alla scuola, dove ovviamente abbiamo dei numeri fuori controllo, abbiamo ancora troppi precari, precari storici, precari con tanti anni di anzianità. Il nostro obiettivo è quello di ridurre drasticamente il precariato. Io vorrei poter dire eliminarlo, ma sono anche realista, so che quando si hanno 150, 160, 170 mila precari in un paese, riuscire a farlo in poco tempo è davvero impossibile. Noi dobbiamo assolutamente ridurli, magari andare sotto i 100 mila entro il prossimo anno, fare in modo che ovviamente le cattedre siano occupate dal primo di settembre. Quest'anno abbiamo avuto una serie di problemi anche dal punto di vista delle cattedre scoperte, troppe cattedre scoperte. Voi avrete seguito le vicende delle trattative con i sindacati per quanto riguarda il nuovo decreto legge sulla scuola, l'università e la ricerca, quello che ad agosto era stato approvato come salva precari, salvo intese. Noi abbiamo ampliato il margine di quel decreto legge, lo abbiamo fondamentalmente reimpostato, perché nel frattempo il governo è cambiato, anche quindi la maggioranza di riferimento è cambiata, e abbiamo voluto dare un segnale forte su A, un concorso ordinario, che ricordo sempre è la via maestra per rimettere in piedi la scuola. Sono i concorsi ordinari e regolari, purtroppo in questo paese ne sono stati fatti troppi di straordinari e con cadenze molto, molto irregolari, e al tempo stesso per almeno 24 mila posti. E al tempo stesso avviare un concorso straordinario per i cosiddetti precari storici, cioè coloro che hanno almeno 36 mesi di servizio, e fare in modo che questo sia un percorso abilitante, anche per coloro che superano una certa soglia, ma che non dovessero rientrare nei posti messi a disposizione. Quindi noi avremo un percorso di abilitazione particolare per i precari storici. E poi abbiamo fatto un collegato alla legge di bilancio, che si approverà alla fine dell'anno, in cui vogliamo mettere in mano un nuovo percorso di abilitazione. Perché se da un lato dobbiamo combattere il precariato, dobbiamo anche fare in modo che i docenti di ruolo e precari che vanno in cattedra siano giustamente formati. Il percorso di abilitazione che esisteva negli anni precedenti era, a mio parere, eccessivamente complesso, sicuramente molto formativo, ma eccessivamente complesso. Io, i miei collaboratori, le forze parlamentari, i sottosegretari e la viceministra, stiamo lavorando a un nuovo percorso di abilitazione per tutti, docenti delle scuole pubbliche, docenti delle scuole paritarie, affinché si possa arrivare nel giro di poco tempo, noi immaginiamo entro marzo-aprile, ad un nuovo modello di abilitazione aperto a tutti, che sia lineare, fattibile, porti persone formate in cattedra nei tempi più rapidi possibili. Aperto a tutti, con una soglia di entrata a livello di servizio? Allora, questo noi ci stiamo lavorando in questo momento. No, l'abilitazione, il nuovo percorso di abilitazione, dovrà essere aperto a tutti coloro che hanno i titoli per poter immaginare di fare l'insegnante, quindi coloro che sono laureati e coloro che avevano un nuovo percorso. Coloro che invece avranno il servizio da parte loro e non saranno rientrati nel concorso straordinario oppure nel percorso di abilitazione speciale che abbiamo costituito per loro con l'attuale decreto, ovviamente per loro verrà riservato un altro tipo di percorso, sempre all'interno di questa abilitazione, che avrà una serie di elementi transitori per fare in modo che chi già insegna possa abilitarsi e entrare in ruolo senza rimanere fuori.